ogni secondo nel mondo due professionisti si iscrivono a linkedin linkedin è per eccellenza la piattaforma dedicata al professional networking è una delle prime dei primissimi social network annati nel mondo nel 2003 e è molto ma molto di più di quello che spesso si pensa ovvero un curriculum vite linkedin è in realtà una grandissima opportunità di crescita professionale linkedin ci permette di valorizzare noi stessi i nostri punti di forza le nostre skills ma anche di coltivare un network professionale di valore e anche di portare con le nostre professionalità le nostre skills e le nostre competenze portare valore poi anche alle aziende per cui lavoriamo non solo linkedin è sempre di più anche una fonte di aggiornamento e di informazione per tutti quanti mi chiamo laura nacci e sarò con voi in questo percorso formativo che spero possa aiutarvi a migliorare la vostra presenza proprio su questo social network vi aspetto